Buongiorno, sono Elisabetta Noioff e sono la fondatrice dell'agenzia di comunicazione Closed Media nata vent'anni fa. Sono circa 25 anni che mi occupo di comunicazione delle imprese, dunque posso dire di aver assistito in pieno alla rivoluzione digitale, alla trasformazione dei media e di conseguenza anche dei linguaggi, degli stili, attività, competenze, tutto ciò che poi ha indotto ad una rivoluzione dei comportamenti e anche dei consumi e, come possiamo osservare tutti, anche dalla vita politica e democratica sia del nostro paese che del resto del mondo. Quando io ho iniziato l'università, era la metà degli anni Ottanta, e le copie dei giornali cartacei venduti nelle edicole, era circa di 6 milioni di copie. Agli inizi degli anni Novanta, con la vicenda di Tangentopoli, quasi 7, venivano addirittura create e testate per rispondere alla straripante esigenza di informazione e anche di pubblicità. Per avere un'idea di come si sono trasformate le cose, quest'anno, nel giugno del 22, siamo poco sopra il milione di copie, più circa 500 mila abbonamenti. digitali. Allora, la comunicazione corporate era essenzialmente dominata dall'ufficio stampa e quella di prodotto essenzialmente era pubblicità. La reputazione si costruiva a colpi di comunicati stampa, di dichiarazioni, spesso erano oveline oppure interviste, immagini tv solo per i volti più noti. Nel tempo la inesorabile e progressiva rapida crescita del mondo digitale ha man mano trasformato gli strumenti e le opportunità, sia perché appunto è nato un nuovo canale di divulgazione di cui tener conto, oltre la carta, la radio, la tv e le agenzie di stampa, sia perché questo canale aveva tre caratteristiche fondamentali. Il primo, quello di essere bilaterale, cioè per la prima volta l'utente poteva interagire, rispondere, postare, commentare. È una bella sfida per i comunicatori. E questo è stato un cambiamento ovviamente epocale. La seconda cosa è stato il cambiamento della percezione del tempo, che è diventato reale, cioè immediato. E naturalmente anche questo ha dovuto trasformare il lavoro. Terzo, sul web sappiamo che chiunque può farsi portatore di messaggio, quindi non occorre più avere delle competenze specifiche, controllare le fonti, saper scrivere o girare un video. Basta esserci, essere presenti. Così ovviamente sono nati dei fenomeni che fino a qualche anno fa reputavamo inimmaginabili. Soprattutto sono nati quando sono nati i social. Basti pensare agli influencer che ormai sono a migliaia, super specializzati. Quindi in tanti mi chiedono, ma allora non serve più comunicare i giornali? Mando il web ed è pure gratis. Ma assolutamente no, non è così. Vi faccio tre considerazioni. Uno, le copie dei giornali venduti in edicola sono una cosa, ma le copie diffuse, spesso purtroppo anche illegalmente, attraverso i social o il web, non vengono monitorate, non producono un guadagno, ma vengono lette, esistono, condivise. Gli articoli, è del secondo punto, vengono divulgati nei modi più disparati, a partire dalle rassegne stampa, oppure dalle riprese che le persone fanno sui social, oppure addirittura degli aggregatori che copiano bellamente interi articoli. Il terzo punto è che sappiamo che esistono anche le versioni online dei grandi giornali e questi sono un po' meno ricchi dal punto di vista dei contenuti, ma sono spesso una fonte informativa, soprattutto per i giovani. Quindi esiste un effetto moltiplicatore dei giornali di cui non si può non tener conto. Tornando alle imprese, oggi la comunicazione quindi possiamo dire che sia omnicanalità, cioè non esista un'altra via, esiste che dobbiamo tener conto di tante cose. Oggi elaborare strategie un minimo complesse è necessario mettere insieme diverse conoscenze, linguaggi, capire la reattività del target, poter valutare e sintetizzare la complessità dei media che inevitabilmente si influenzano a vicenda. Il comunicatore quindi diventa una specie di alchimista e deve avere a disposizione strumenti, contenuti e risorse, perché non è vero che il web o i social non costino, le risorse servono. Un conto è aprire un profilo, un conto è farlo funzionare. Faccio un esempio, il maggiore tiktoker del momento, un italiano, appena ha chiesto a un brand il nostro cliente 500 mila euro per un post. Quando pubblica qualunque cosa riesce a raggiungere quasi 10 milioni di like. È una realtà pazzesca, così come ad esempio la Stardust House, molto famosa, che è riuscita a riunire una dozzina di influencer in una casa, appunto, dove hanno circa 50 milioni di view giornaliere. Straordinario, ma non gratis. Ma questa è la realtà, per quanto strana ci possa apparire. Oggi il digitale è questo, magari domani sarà diverso, ma così come è reale questo, è reale anche l'analogico. Perché? Perché l'uomo continua ad essere analogico e pensa in modo analogico. Noi di Clostumidi abbiamo realizzato uno studio interno per verificare l'impatto della comunicazione e della divulgazione delle informazioni sull'andamento di borsa di aziende quotate. Quindi abbiamo analizzato come, dopo la diffusione di un'informazione attraverso metodi, per così dire, tradizionali e in parte obbligatori, si ottenga una reazione, in questo caso del mercato. Beh, assicuro che è molto interessante e illuminante e risponde con chiarezza alla domanda. Serve comunicare sui media? Mi serve un professionista. Quindi, per chiudere, il digitale nel nostro mercato, come in tanti altri, ha allargato le possibilità, ha spostato i confini più avanti, obbligandoci a cercare nuove strade e integrare, cercare nuovi percorsi, nuovi modi. Viviamo in tempi ricchi di opportunità e anche, dall'altra faccia della medaglia, di incertezze. Per le aziende che devono affrontare le complessità della nuova comunicazione, la competenza resta sempre la risposta migliore, ricordando però che il futuro della comunicazione sarà fatto sempre dei sogni in cui abbiamo creduto.